Siamo al nostro approfondimento, questa settimana stiamo provando a comporre una mappa degli investimenti esteri in Piemonte a capire dove si concentrano e soprattutto perché, ovvero in prospettiva come fare per attirarli. L'ospite chiamato oggi ad aiutarci è Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Allora, il dato da cui partire, che abbiamo ricordato lunedì, 4381 imprese estere insediate in Piemonte con Torino che però attira i due terzi di questo universo. Le chiedi innanzitutto come spiegare questa concentrazione? Beh, sicuramente c'è, speriamo e siamo molto felici, di un aumento dell'attrattività del nostro territorio. Però è un territorio sicuramente con una forte vocazione manifatturiera, quindi con la presenza di imprese internazionali e anche di forti filiere manifatturiere, quindi un territorio attrattivo per chi vuole venire a produrre per i mercati europei. Siamo abituati però a pensare ad aziende che o arrivano o malauguratamente se ne vanno, nel caso appunto delle multinazionali. È vero che ultimamente ci sono sempre più imprese che invece tornano a casa? Sì, guardi, questo è un fenomeno che dipende un po' dai fatti che sono accaduti. L'ultimo fatto della guerra sicuramente ha creato delle tensioni internazionali, un po' un allontanamento dei paesi, ma soprattutto anche la pandemia e la criticità ed incertezza delle catene di fornitura. Vi ricordate i problemi per far arrivare i contenitori dall'Asia, i costi che sono cresciuti. E questo ha portato al fenomeno che auspichiamo, quello che chiamiamo reshoring, cioè di riportare le produzioni che si sono allontanate negli ultimi anni e riportarle nel nostro paese, nel nostro continente. Questo è un atteggiamento che molte imprese stanno cercando, anche perché la convenienza di produrre in paesi remoti è diminuita. Poi c'è anche il near-shoring, cioè dobbiamo guardare ai paesi vicini che hanno ancora dei fattori di convenienza, come il Nord Africa. Quindi sono due fattori che stanno influenzando le scelte di coloro che devono decidere gli investimenti. Noi questa settimana, oltre a parlare di strategie, vi stiamo anche proponendo delle storie, start-up o colossi multinazionali che arrivano in Piemonte dall'estero. Siamo partiti da due aziende europee, poi una statunitense. Oggi Simona Marchetti ci parla dei giapponesi e del loro quasi ventennale felice connubio con Cameri. Vediamo. La Procos di Cameri alle Porta di Novara produce principi attivi per farmaci. Sono l'essenza, il cuore dei medicinali che assumiamo tutti i giorni. Molti vengono sintetizzati in questi reattori. Un principio attivo è la parte attiva di un farmaco, ossia quella molecola che ha un effetto terapeutico sul nostro organismo. Vengono prodotti in reparti chimici, come quello che stiamo vedendo ora. L'unità fondamentale del reparto chimico è il reattore. Il reattore è un serbatoio cilindrico agitato e termostatato. Praticamente la chimica è come la cucina. Si caricano gli ingredienti, che in questo caso sono i reagenti della reazione, nel reattore. Si raggiungono le condizioni ottimali per far avvenire la reazione chimica e alla fine si ottiene il principio attivo. L'azienda, circa 500 dipendenti, ha una storia di quasi 80 anni alle spalle. Fondata nel 1945 da due ricercatori chimici, nel 1990 la proprietà è stata rilevata da una accordata, guidata da una famiglia di imprenditori locali, che ha investito e consentito la costruzione dell'attuale impianto. Nel 2006 il controllo è passato nelle mani della multinazionale giapponese CBC, che continua a sostenere la sua crescita e il suo sviluppo. Questo ha portato ovviamente nuova linfa, importanti finanze, un grande network internazionale e soprattutto una strategia di crescita nel lungo termine. Uno si può chiedere perché un'azienda giapponese abbia voluto investire in Italia. Consideriamo che l'Italia è da sempre una delle culle della chimica farmaceutica mondiale. Qui, grazie anche a una situazione brevettuale favorevole nel dopoguerra, si è sviluppata un vero e proprio movimento di aziende chimiche che operavano nel farmaceutico. Procos è stata una di queste. Il prossimo obiettivo è l'apertura tra un paio d'anni di un nuovo reparto con importanti ricadute occupazionali. Un investimento molto importante che abbiamo fatto negli ultimi anni, ovvero un'unità per lo sviluppo e produzione di principi attivi ad uso oncologico. Il prossimo grande passo è un aumento di capacità produttiva e un ampliamento di piattaforma tecnologica. Partiremo con le costruzioni e installazioni quest'anno. Il tutto verrà completato in una prima fase nel 2025 e questo porterà anche a un aumento dei posti di lavoro. Qui si parla di comunque 100-150 unità. La Procos opera in un contesto globale e punta a mantenere un alto profilo di sostenibilità. L'obiettivo è un'azienda sempre più sostenibile, sostenibile a 360 gradi. Operiamo soprattutto sui mercati esteri. Per noi il mercato italiano presenta meno del 10%, purché collaboriamo con i più importanti gruppi farmaceutici nazionali. All'estero, soprattutto Stati Uniti, dove tuttora c'è quasi il 50% del mercato mondiale farmaceutico. L'Europa, ovviamente, il Giappone, diciamo tutti i mercati altamente regolamentati ci vedono come protagonisti. Presidente Gallina, accanto a storie positive come questa, addirittura si assume, rimangono le ferite in Piemonte, delle localizzazioni a volte brutali come nel caso dell'Embraco, ricordiamo tutti oggi i problemi dell'americana Liar. La politica degli incentivi, quelli fiscali, quelli energetici, è ancora quella giusta per le multinazionali? Ma sicuramente la politica degli incentivi è un qualche cosa che tutti gli Stati, tutte le aree, non solo in Europa, stanno facendo. Vedete anche il grande programma che sta facendo gli Stati Uniti per attrazione degli investimenti. Però avete visto anche nella notizia che abbiamo fatto vedere oggi che ci sono realtà che in Piemonte stanno bene, lavorano da tanti anni, sono fidelizzate. Quindi cerchiamo di guardare avanti. Io credo che il fenomeno delle aziende che hanno chiuso le notizie più importanti che le ha citato, derivino da un'onda che è un po' che arriva dal passato. Adesso dobbiamo guardare avanti con nuove logiche e quindi anche con nuovi piani per essere attrattivi. È una concorrenza fortissima di tutti i territori in Europa e negli altri paesi, però credo che ci siano le condizioni, che noi abbiamo le condizioni anche di costo che si sono bilanciate rispetto ai grandi differenze che c'erano prima tra l'Europa e gli altri paesi, che possiamo essere attrattivi. Quindi gli incentivi mirati sulle grandi capacità che il nostro territorio ha, sui settori in cui noi veramente possiamo offrire un ecosistema di aiuto alle imprese che vengono a insediarsi, dove trovano tutto quanto gli serve per investire e per svolgere il loro lavoro. Però c'è anche un altro volto degli investimenti in Piemonte, quelli stranieri. Parliamo dei piccoli imprenditori, scritti alla Camera di Commercio. È una realtà importante questa? Assolutamente sì, negli anni è cresciuta ed è la realtà più dinamica, quelle delle circa 50.000 imprese che ci sono in Piemonte. Ovviamente negli ultimi anni questa dinamica è cresciuta anche per dei fenomeni come quello delle costruzioni, ma anche nel mondo dei servizi. Gli imprenditori stranieri sono attivi nel nostro paese e portano tantissimi posti di lavoro, quindi si sono molti integrati da tantissimi anni. Questa è una realtà che forse non fa notizia che non sono grandi realtà, ma sono sicuramente dei numeri che fanno crescere il nostro tessuto economico e produttivo del nostro paese. Da imprenditore e da Presidente della Camera di Commercio vorrei guardare con lei un altro servizio. Questo risale a quasi 30 anni fa, dagli investimenti stranieri in Piemonte a quelli che hanno radici lontane dei piemontesi all'estero. Con Rewind vogliamo in Argentina, 1995. Anche San Jorge, provincia di Santa Fesse, 10 mila abitanti è un paese del mondo piemontese d'Argentina. A fondarlo furono infatti i migrati della zona di Cavalermaggiore che risalendo il Paranà sbuccarono nella pianura, era l'anno 1886. I discendenti degli emigranti tornano ora in Piemonte, vogliono conoscere e sapere e a Cavalermaggiore bandiere italo-argentine dappertutto, i bienvenidos, le cene di fratellanza, ma anche basta con la querula memoria e la nostalgia. Gli argentini vogliono rapporti commerciali, scambi industriali, i giovani che vengono qui a Torino sono interessati alla Fiat, almeno quanto a Superga, chiedono l'Olivetti più che i Castelli di Langa. Lo dicono a Chiarelettere Regione, Provincia, Camera di Commercio di Cuneo, a Cavalermaggiore durante il gemellaggio con San Jorge, patrocinato dall'Associazione Piemontesi nel Mondo. L'avvocato Bertello da circa 20 anni cura investimenti di italiani in Argentina nel settore agricolo. Quanti ettari ha trattato in tutto questo tempo? 12-14 mila ettari, c'è chi compra, poi rivende, chi invece li tiene. Parliamo di prezzi, è possibile? Prezzi attualmente, per parlare in termini di dire, possiamo andare a terreni, si parla di terreni buoni, coltivabili dai 3-400 mila lire a 4-5 milioni a ettaro. Un esempio, in Italia negli anni passati con la questione dell'equo canone, fiti bloccati, un terreno agricolo poteva dare una resa dello 0,5%, in Argentina in questi anni ha fruttato perlomeno un 3-4% sul capitale investito. Questo servizio ci dimostra che sia gli investimenti all'estero che gli investimenti che arrivano dall'estero non si improvvisano. Assolutamente no, bisogna avere una strategia di medio-lungo periodo, abbiamo parlato di attrazione ma dobbiamo anche aiutare le nostre imprese ad andare all'estero per essere brave a investire negli altri paesi e a servire gli altri mercati. Per questo esistono delle reti importanti come quella delle Camere di Commercio, facciamo parte come Camere di Commercio di Torino della rete delle Camere di Commercio mondiali proprio per stabilire contatti, trovare opportunità negli altri paesi. Stiamo anche strutturando un piano importante sia di attrazione degli investimenti, di potenziamento dell'azione della regione per aiutare le aziende a internazionalizzarsi con il CEIP, l'Agenzia Piemontese per l'internazionalizzazione e anche le Camere di Commercio che con i loro servizi possono essere al fianco delle aziende per essere preparate. Ecco, voi avete fatto appena un accordo con ben 47 consolati, in sintesi, un flash. A Torino c'è una rete di consolati di tutti i paesi, 47 paesi, con quali vogliamo collaborare per trovare delle maggiori opportunità, per creare proprio la rete che aiuti a stabilire questi investimenti, queste logiche di export e di collegamento. Grazie a Dario Gallina, Presidente della Camera di Commercio di Torino, impegnata in questo sforzo di internazionalizzazione. Noi torniamo invece vicino casa con le vostre segnalazioni, la rubrica dal vostro inviato.